il game of data è un gioco di squadra è un gioco in cui tutta una serie di attori devono collaborare per raggiungere dei risultati per controllo intendiamo essenzialmente governare i processi di data management governare i processi vuol dire che da una parte abbiamo le tecniche di data management e le capabilities diciamo delle tecnologie che li sostengono bene passiamo all'altra componente quella del rule dictionary il dizionario delle regole essenzialmente come dicevo ampia lo spettro diciamo cominciando a considerare anche le informazioni legate ai requisiti in qualche modo a quelle che sono le regole di business che un data owner vorrebbe fossero applicate diciamo ai suoi dati in modo da poter come dire esporre poi quelli che sono le caratteristiche di questi requisiti ma anche la possibilità poi di raccogliere il risultato del lavoro di chi invece questi controlli li va a implementare fisicamente